Buongiorno a tutti, sono Simone Bulleri. Continuiamo con la terza parte, il terzo podcast dedicato al pensiero di Giovanni Gentile, terza e ultima parte. Però, come notate, la figura di Gentile ha un tale peso che ci sono voluti tre podcast per compendiarne, come dire, a volo di uccello, e velocemente il pensiero. Ricordiamo che Bertrandio Spaventa e Giovanni Gentile sono stati sviluppatori della cultura italiana, in particolar modo Gentile, anche se la sua fine tragica è stata tragica, ha vinto comunque tantissime battaglie culturali. Il suo è un contributo che dobbiamo riconoscere e in cui dobbiamo ammettere molti aspetti, molti lati positivi, fra tutti il lavoro svolto nella stesura dell'enciclopedia italiana e il lavoro svolto appunto con la Treccani. Allora, continuiamo rivedendo velocemente il pensiero, i punti fondamentali del suo pensiero, cioè conoscere l'io che è nell'unico pensiero. Allora, mentre Hegel dice Gentile lasciava ancora esterni la natura e la logica, le lasciava esterne allo spirito, dice io, per me lo spirito è un unico concetto e il pensiero e la natura, la logica e la natura, devono essere considerati come attività del pensiero. Quindi lo spirito si crea da solo dal nulla e tutta la realtà è atto del pensiero puro. Ecco perché la filosofia di Gentile si chiama attualismo. Per dirla tecnicamente, con termini difficili, tutta la realtà è immanente dentro il pensiero e al di fuori del pensiero non c'è niente. Questo perché per Gentile conoscere significa affermare l'identità fra sé e l'oggetto della conoscenza, quindi negare che ci sia qualche cosa di diverso da sé. Conoscere le altre persone, poi gli altri io empirici, si risolve nel comprendere che esiste un solo vero io e questo solo vero io, come abbiamo detto anche nel precedente podcast, è l'io puro, attuale, assoluto. È l'io trascendente che tutto comprende. Chi comprende ciò ha la verità e quindi il filosofo idealista che neghi ogni alterità accede alla più alta e unica forma di conoscenza. Per Giovanni Gentile l'io individuale e l'io trascendentale diventano tutt'uno. Poi ci sono altri punti importanti della filosofia di Gentile che sono punti fondamentali ma anche limiti, per esempio il giudizio sprezzante che viene dato alle scienze naturali. Le scienze naturali sono per Gentile delle astrazioni perché non capiscono che la natura è immanente, è interna al pensiero. guardano ancora le divisioni e non capiscono il monismo che c'è all'interno del pensiero e del filosofo. Un altro punto fondamentale per quanto riguarda la filosofia pratica di Gentile, per Gentile non c'è differenza fra conoscere e volere, volere e conoscere e conoscere e volere. Così come non esiste alcuna differenza fra pensiero e azione. Cioè la vita è filosofia, la vita è pensiero, vivere è pensare. Sia vivere che pensare sono atti puri del pensiero. Quindi la filosofia di Gentile è una filosofia dell'azione. L'assoluto non è statico, sono gli antichi dialettici che l'hanno visto come statico, ma oggi con Hegel e poi con Gentile si capisce che l'assoluto è assolutamente dinamico, triadico, eccetera. Quindi Gentile è chiaro in questo, spero di esserlo anch'io nella spiegazione, niente esiste fuori dal pensiero e l'atto del pensiero che pensa se stesso non può essere assolutamente sbagliato. Ricolleghiamo che i tre momenti dello spirito per Gentile sono la tesi, il soggetto puro, cui si ricollega l'arte, l'antitesi di natura e scienza, cioè l'oggetto puro al quale fa riferimento la religione in cui il soggetto intuisce la necessità dell'assoluto e lo venera come un oggetto esterno a sé, senza riferimento alcuno alla scienza per quanto si parli di realtà oggettuale. E poi c'è la sintesi, che è l'arricchimento di tesi e antitesi di affermazione e negazione con lo spirito. Lo spirito come negazione dell'alterità e sintesi di oggetto e soggetto che coincide appunto col pensare filosofico che è sempre pensare storico. Questa divinizazione dell'io assoluto, attuale, trascendentale, dell'io puro, assoluto, porterà a Gentile numerosi guai dal punto di vista teoretico, concettuale, ma anche poi di fatto dal punto di vista carrieristico. infatti l'influenza gentiliana in politica si scontrerà, troverà una sua parabola discendente a partire dal 1929, perché quest'anno è fondamentale, perché è l'anno dei patti lateranensi, del concordato, della convenzione, del trattato che lo Stato italiano laico fece con lo Stato divino cattolico. Nonostante Gentile si sia dichiarato per tutta la vita cattolico, cristiano, convinto, questo suo battere sulla superiorità della filosofia sulla religione portò appunto Gentile ad opporsi ai patti lateranensi che fu una grande vittoria politica di Benito Mussolini, portò questo aspetto del suo pensiero contrario ai patti lateranensi, provocò una condanna delle opere di Gentile all'index librorum proibitorum, all'indice dei libri proibiti. Insomma, la Chiesa condannò Gentile, nonostante che il pensiero di Gentile sia profondamente religioso. una mistica quasi, un movimento di spirito che si crea, esce da sé, ma ritorna in sé in un tutto unico che è spirito. Poi vediamo brevemente come si rapportò con gli altri autori, con i grandi pensatori a lui precedenti. Su tutti nominiamo Marx. Cosa pensò di Marx? Gentile in realtà su certi punti concorda con Marx, cioè riconosce a Marx il merito di aver dato rilievo al concetto di prassi, di aver detto che la realtà è un'attività di un soggetto e il soggetto non è semplicemente spettatore della vita, ma è creatore del mondo. In questo Gentile scusate riconosce il contributo fondamentale di Marx, ne condanna il fatto di aver ridotto il tutto al materialismo, ovviamente un neodialista che altro può condannare, ma cosa molto curiosa in questo rilievo probabilmente derivato lì dalla Briola a cui dedicheremo un podcast, si può vedere un curioso punto di contatto fra Gentile e il filosofo che più il pensatore intellettuale che più si può dire antigentiliano per eccellenza, come Dio è Satana o come Satana è Dio, e cioè Antonio Gramsci. Chiudiamo velocemente questo podcast ricordando perché affrontiamo il pensiero di Gentile, perché comunque Gentile, nonostante sia stato condannato dalla storia, condannato anche all'oblio per certi versi, ha avuto un'influenza profonda nella cultura italiana, è stato per molto tempo il signore incontrastato dell'università italiana, ha deciso cattedre, cioè non c'era cattedra che non sia stata assegnata o mantenuta senza il suo assenso, e da un punto di vista filosofico l'Italia risente ancora oggi dell'impostazione gentiliana, domande come perché nelle storie della filosofia italiana il termine geniale precursore compare così spesso, perché Locke, Barclay e Hume sono visti come una premessa a Kant che ne corresse gli errori, perché si studiano tantissimo Bruno e Campanella e hanno più rilevanza nei manuali di storia della filosofia italiana di Newton e la filosofia della scienza perché trova poco spazio, questi sono tutti segni dell'influenza di Gentile sulla cultura italiana. Gentile in particolare nel corso di tutta la sua esistenza ha contribuito tantissimo appunto allo sviluppo della cultura italiana e seguendo anche quella lezione di Spaventa che sosteneva la filosofia nata in Italia si è poi spostata in Germania e dalla Germania con Giovanni Gentile e Benedetto Croce ritorna al suo luogo di origine e cioè l'Italia. Chiudiamo qua questo breve excursus sul pensiero di Gentile naturalmente rinvio a voi e a chi vuole gli approfondimenti e passeremo poi il prossimo podcast a tratteggiare a fare un ritratto di Labriola il grande intellettuale Antonio Labriola anche lui anch'esso come dire allievo di Bertrando Spaventa vi ringrazio per l'attenzione e vi rimando al prossimo podcast vi chiedo di iscrivervi al canale e di lasciare un commento di discussione e di riflessione vi ringrazio nuovamente buona giornata alla prossima Grazie.